Prove di dialogo e accordo vicino in giunta per il regolamento sulla cosiddetta legge Bavaglio ammazza ostruzionismo a seconda dei punti di vista. Opposizione di centrodestra e consiglieri di maggioranza, ad eccezione dunque del Movimento 5 Stelle, hanno infatti sottoscritto una proposta di modifica alla contestata norma firma del consigliere del Partito Democratico Camillo D'Alessandro che introduce la possibilità accordata alla giunta regionale di dichiarare urgente una legge cancellando tutti gli emendamenti al fine di contingentare i tempi di approvazione. Con le nuove modifiche concordate, la legge tagliola non si potrà infatti applicare su norme relative a legge elettorale, statuto regionale e funzionamento del consiglio. Per i progetti di leggi in materia sanitaria e politica e della salute ciascun consigliere potrà poi discutere non più di cinque emendamenti a testa. Su tutto il resto invece la giunta potrà applicare la tagliola compresa la legge di bilancio le cui approvazioni hanno abituato gli abruzzesi negli anni a maratoni notturni, istruzionismi immemorabili e indecenti sveltine e notturni mercanteggiamenti. L'accordo si è trovato sulla proposta originaria e credo firmata poi dalla maggior parte dell'opposizione, manca solamente i 5 stelle che non ha firmato questa proposta e credo che appunto sia una proposta giusta e sicuramente oggi credo che porteremo a casa in commissione la votazione. Noi grazie al nostro senso di responsabilità abbiamo promosso appunto questa iniziativa di mediazione che è ancora tuttora in trattativa nella giunta per il regolamento però l'abbiamo fatta noi come promotori, ha visto l'adesione già di più di 24 consiglieri e quindi insomma ci appelliamo ancora una volta al senso di responsabilità. Restano contrarissimi come detto i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Sono modifiche minime spiega il vicepresidente della giunta del regolamento Riccardo Mercante. Il bavaglio reste come? Perché la giunta potrà decidere su tante leggi importanti di cancellare il diritto dell'opposizione a presentare anche emendamenti migliorativi.